ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato allo yema pearl diver un orologio che è sul mercato da un paio d'anni non è recente ma che porta con sé una storia del tutto particolare ossia è il frutto della realizzazione voluta da un appassionato tale marvin ravenel sì perché yema attraverso la propria piattaforma aveva chiesto ai fan di disegnare un orologio e questo è quello scelto attenzione che tutte le particolari specifiche tecniche che troveremo seguono questa filosofia perché troveremo un vetro plexiglass inserto ghiera in alluminio sono frutto della scelta degli appassionati un percorso preciso che ha portato alla realizzazione di questo orologio non siamo quindi qui a giudicare queste scelte ma ad accettarle come frutto di un percorso di un appassionato un insieme di specifiche realizzate e pensate per questo appassionato vi lascio il link qua sotto in descrizione poi per vedere tutto il percorso fatto da yema e dagli appassionati per raggiungere a questo orologio si ispira tratti allo yema rally graph 2 degli anni 60 specie per le sfere ma in generale devo dire che ha un bel design ed è per questo che ho deciso di portarlo sul canale chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio mi presta gli orologi e concessionario del marchio e offre un trattamento di favore a voi che state guardando tra l'altro credo che questo orologio quasi anche fuori catalogo quindi non capisco nemmeno quale business possa avere con questo orologio però io l'ho preso perché mi piaceva poi se ce n'è uno o due non lo so non mi è non mi ha dato sapere non ho nemmeno chiesto l'ho portato sul canale appunto per questa particolarità perché mi piace esteticamente e poi perché ultimamente avevo portato sul canale orologi piuttosto costosi zenith brightling jungans insomma orologi di un certo peso economico e volevo portare qualcosa al di sotto dei 1000 euro un po per accontentare tutti gli appassionati per far vedere anche che ci sono ottimi orologi sotto i 1000 euro e questo abbondantemente sotto i 1000 euro quindi è un capra e cavoli come si può dire no utile direttevole un bello orologio che costa poco quindi ho deciso di portarlo qua però in primis perché mi piace altrimenti un orologio che non mi piace non lo prendo nemmeno non è che vi porto qua un orologio economico che non mi piace solamente perché economico no non esiste dai giriamo la camera guardiamo a no volete vedere l'orologio del giorno e allora l'orologio del giorno e questo bellissimo long jean spirit 40 mm di diametro cassa quadrante blu calibro l 888 certificato cost un orologio tutto fare che ha una luminescenza che dire luminescenza di un po è un lampadario un lampadario veramente un bel orologio robusto 100 metri di impermeabilità tutto quello che deve avere per essere un bel orologio adesso veramente giriamo la camera guardiamo lo iema pearl diver e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 38 mm spessore 13.9 mm ingombro trasversale al polso 46 e interasse ansa da 20 mm un diver vecchio stampo che vede nella compattezza il suo punto di forza o perlomeno per coloro i quali riescono maggiormente ad apprezzare i diver da 38 mm sul mio polso non sta male anche se i 38 mm con ghiera li ritengo leggermente sottodimensionati per il mio gusto è inutile sottolineare che le proporzioni generali sono praticamente perfette e che poco c'è da lamentarsi soprattutto tenendo conto che il mio polso è di misura leggermente sopra la media e che per la maggior parte di voi risulterà adatto ci sono un paio di dettagli da prendere in considerazione per comprendere appieno la sua indossabilità in primis lo spessore comprende ovviamente anche il trasparente sporgente e siccome la specifica richiedeva esplicitamente che fosse in plexiglass ecco che per poter resistere i 200 metri prefissati si è dovuto realizzarlo con uno spessore di ben 3.5 mm tramite qualche espediente tecnico si è riusciti ad inglobarlo nel profilo ghiera e la sua sporgenza reale e quindi nella normalità occorre comunque tenere presente che quei 3.5 mm ci sono e fanno parte della struttura in secondo luogo il lag to lag l'indossabilità al polso è vincolata dalla prima maglia del bracciale che appare quasi fissa rigida non tende quindi a scendere subito perpendicolare sul polso ma si estende in larghezza occorre dire che è inclinata verso il basso di ben 60 gradi e che quindi avvolge il polso come se fosse mobile per vederla a sbalzo dovreste avere una circonferenza di 13 cm ma in quel caso i problemi sarebbero altri di salute credo stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un design che non fa gridare al miracolo in quanto ad originalità senza però andare ad imitare spudoratamente modelli più famosi ciò che colpisce subito l'occhio è la semplicità delle forme che risultano geometricamente nette con superfici che si incontrano senza smussature di addolcimento lo si nota particolarmente in corrispondenza delle anse e nella parte inferiore del lato carour a condire il tutto troviamo poi una finitura generale completamente opaca con spazzolatura longitudinale sia sul lato che nella parte superiore un bel effetto acciaio industriale che a molti restituisce quella sensazione di strumento meccanico unica eccezione è la corona di carica vite che vede la sua faccia esterna scintillante e lucida da notare come l'assenza delle spallette di protezione contribuisca a connotare il design in maniera fortemente retro una scelta ormai molto utilizzata che va però a discapito della protezione contro gli urti ma tornando ad osservare il profilo dell'orologio possiamo notare che oltre alle piacevoli finiture anche la ghiera girevole contribuisce ad evidenziare il particolare design è infatti leggermente più alta della media e il motivo lo abbiamo scoperto prima deve inglobare parte dello spessore del vetro e lo fa con stile appare infatti molto spiovente verso l'esterno inclinata in modo e maniera da addolcire la congiunzione tra cassa ed appunto il vetro una ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti che risulta in linea con le intenzioni e le premesse iniziali l'inserto in alluminio è sicuramente più caldo e affascinante rispetto ai materiali moderni per contro risulterà facilmente graffiabile e tendente allo scolorimento questione di scelte apprezzabile poi la scelta di apporvi una grafica tutto sommato originale e poco vista niente cifre e minuteria in luogo dei quali troviamo solamente forme geometriche con i quadratini a rappresentare qualcosa di differente sobrietà sia nelle forme che nel colore il nero la fa da padrone anche se l'alluminio appare fortemente più lucido rispetto al fondo quadrante che grazie alla fintura opaca e ruvida risulta essere un nero meno assoluto quasi un grigio oscurissimo un quadrante piatto e semplice che non mette in evidenza alcuna tridimensionalità e non cerca di accativarsi le simpatie tramite inopportuni scintilli qui è tutto opaco indici tondi sfere e scritte varie tutto con la stessa finitura e tutto su di un piano fa forse eccezione la sfera secondi laccata di bianco che risalta per differenza l'insieme generale di queste caratteristiche pone in risalto un importante fattore per ogni orologio la leggibilità risulta palese che il contrasto tra fondo e indici color sabbia ci restituisce la possibilità di comprendere l'orario in maniera eccelsa senza titubanze da segnalare poi che l'assenza della finestra data permette al quadrante di apparire molto equilibrato e simmetricamente sviluppato in verticale una curiosità solitamente le lancette che qui sono piuttosto originali vengono circondate da una cornice a finitura metallica qui troviamo invece un bordo nero opaco che tende a mimetizzarsi con il fondo non inficia la leggibilità trasforma però quella dei minuti che essendo a matita si ritrova ad apparire come semplicemente rettangolare in soldoni la forma delle sfere è data dal super luminova old radium presente un materiale luminescente che a riposo ci restituisce il colore del radio virato o anche del trizio mentre una volta caricatosi di luce diventa modernamente colorato tanto da poter essere declinato in due tonalità differenti sfere e riferimenti sulla ghiera di un colore accenti sul quadrante di un altro utile come riferimento dei tempi da monitorare non ho ancora parlato del calibro si cela dietro ad un fondello in acciaio pieno sul quale appare un apprezzabile basso rilievo rappresentante il logo di ema in versione araldica ed è una scelta che molti approveranno un oggetto tutto acciaio fa sempre il suo effetto anche se poi ci adattiamo e prendiamo anche gli orologi con fondello trasparente dicevo il movimento si tratta dello ema 2000 un calibro progettato sviluppato e assemblato da ema stessa si tratta dell'evoluzione dell mpb 1000 che a sua volta era il vecchio calibro realizzato da ambre quando quest'ultima è divenuta proprietaria di ema ha passato il suo know-how a ema stessa che ha provveduto ad ulteriori sviluppi ho sempre avuto dei dubbi a riguardo del fatto che il costo di uno ema con calibro in house fosse inferiore a quello di uno ema con sellita nonostante ciò non ho mai trovato inconfutabili prove che non si tratti di un calibro in house le immagini dei laboratori della sede parlano chiaro e mostrano macchinari che neppure alcuni importanti marchi svizzeri hanno sono giunto alla conclusione che i costi siano stati ammortizzati nel tempo e che i componenti vengano realizzati in cina ma è solamente una mia ipotesi che non va di inficiare la qualità del calibro è normale esternalizzare alcune lavorazioni detto ciò ritengo che il valore aggiunto di questo calibro possa essere la regolazione su quattro posizioni e lo scarto massimo ammesso di più 10 meno 10 secondi al giorno per contro dovrete rivolgervi all'assistenza ufficiale in caso di revisione anche se penso che lo smontaggio e il rimontaggio possano essere alla portata di un bravo orologiaio in ultima analisi non resta che dare uno sguardo al bracciale che vede un design particolare con maglie geometricamente singolari unite da due segmenti centrali un aspetto piuttosto originale che poco si è visto da notare che la finitura è completamente opaca e spazzolata esattamente come la cassa e che il tutto l'insieme ci restituisce l'aspetto di un orologio maschio piccola nota margine le ansie sono forate in pieno vintage style e il bracciale si smonta quindi dall'esterno terminiamo la disamina con la clasp che vede la cerniera interna di buona qualità e soprattutto la prolunga muta ben solida e spessa vi ricordo che il suo scopo non è la regolazione fine per quello ci sono i forellini sulla clasp senza infamia e senza lode invece la scatoletta che sembra essere una di quelle standard di fornitura possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali è un bel orologio dai mi sono anche divertito a testarlo a fare la recensione perché è quasi privo di difetti ora se poi li vogliamo trovare anche un po pretestuosamente quelli elencati sono la clasp che può sembrare un pochino di fornitura no uguale è simile a tante altre ma la maglia del bracciale che è fissa che è rigida quindi che allunga un pochino il lag to lag volendo ci possiamo mettere quello e poi forse il calibro ecco il calibro in house che di per sé è un valore aggiunto è un po di esclusività però c'è il punto che poi per fare una revisione bisogna portarlo in assistenza ufficiale e non so quanto possa costare la revisione ufficiale della casa madre probabilmente chi spende 800 euro in orologio non vorrebbe spenderne tantissimi per fare la revisione quindi magari però c'è anche il pensiero alternativo cioè un'interpretazione differente che tutto quello che si risparmia per avere un calibro un po esclusivo poi dopo lo si può reinvestire per fare la revisione nel senso meglio comprare un orologio 800 euro con un calibro in house e poi spenderne 400 la sparo per fare la revisione piuttosto che spenderne 3000 e poi e poi spenderne 1000 ok quello che hai risparmiato all'inizio lo reinvesti dopo cinque anni dieci anni per fare la revisione poi ci sta anche che un bravo orologiaio sia in grado di smontarlo rimontarlo e non è che ci vuole tanto per fare la revisione e da quello che so mi sembra che i pezzi di ricambio vengano anche forniti agli orologiai quindi non dovrebbe essere nemmeno così impossibile poi per il resto è un orologio bello da vedersi compatto al polso sta bene sta proprio bene al polso lo riempie bene senza strabordare un orologio specie per chi ha dei polsi un pochino più piccoli del mio a me mi sembra un po piccolo per me però poi volendo proprio andare a scavare a scavare magari ecco per siccome fa parte della categoria degli 800 euro cioè le finiture sul quadrante non sono non sono eccezionali nel senso che probabilmente è una scelta stilistica quella di aver voluto tutto piatto tutto opaco senza niente rilievo applicato no però c'è anche da dire che orologi di fascia superiore leggermente superiore presentano dei quadranti molto più ricchi poi dipende da uno cosa vuole no se vuole la bellezza proprio estetica delle cose applicate delle luci cantezze queste cose qua oppure se vuole come stilisticamente loro hanno scelto un quadrante opaco piatto semplice poi io vi metto qua tutto sul piatto le foto le avete viste i video le avete visti ho fatto del mio meglio per farvi capire come è fatto poi sta a voi decidere se vale la pena spendere quei soldi lì o se non vale la pena cioè a me proprio fate voi mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che non mi resta che non mi resta